Salve a tutti amici, benvenuti su EmiliaMeteo.it, ancora buone notizie per quanto riguarda il tempo dei prossimi giorni, l'anticiclone delle Azzorre comincia a garantire condizioni di maggior stabilità un po' su tutta l'Italia e ovviamente anche sulle nostre zone e si conferma invece anche l'arrivo dell'anticiclone africano con l'inizio della prossima settimana, questo vuol dire caldo in aumento, purtroppo anche l'Affa, il caldo diverrà ovviamente decisamente più pesante rispetto a questi giorni, giornate che stiamo vivendo insomma con un tipo di clima ancora abbastanza gradevole, andiamo a vedere nel dettaglio il tempo, quella di oggi sarà comunque una bella giornata di sole salvo qualche timida velatura sulle aree di pianura e qualche temporaneo addensamento un pochino più importante a ridosso dei monti dove comunque il rischio di pioggia si manterrà sempre molto basso, ne approfitteranno ovviamente le temperature per far registrare un generale aumento, ormai le temperature cominceranno ad avvicinarsi ai 30 gradi sulle zone interne nei prossimi giorni sicuramente le temperature andranno anche oltre i 30 gradi e successive 24 ore ancora appunto all'insegna del bel tempo con qualche annuvolamento sempre possibile nelle ore più calde sui monti con il rischio di pioggia comunque non particolarmente alto, diciamo che sui crinali qualche improvviso acquazzone potrebbe anche esserci ma il rischio ripeto non è assolutamente elevato e ripeto con l'inizio della prossima settimana ecco che l'anticiclone africano porterà una prima ondata di caldo abbastanza importante anche se non raggiungeremo certo temperature record avremo temperature insomma che in questo periodo dell'anno è normale raggiungere magari per qualche giorno. Mi fermo qui amici grazie per essere stati con noi a più tardi